Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! L'altro team, what the fuck? Via, via! Guardi la kill camera fuori, questo non ho messo un colpo. Quello è 15 kill, un 2 di radio. Silent time, forse, silent time, aspetta, aspetta. Vediamo subito, bella moglio, bella. Mi ha arato. Non so, eh. Ah, ma si era un batto. Sì, sì, speriamo un po' di persone. Dai, 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 ti muoio, ti muoio, ti muoio, ti muoio. Puttana, è già anche un altro team, fratello. Vengo da te, non ti muovere, non ti fucking muovere. Chi è sto finto cheater? Ha, 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 ha. What? What? Dove ho la controllo, dove ho la controllo? Jesus fucking. Uff. Ah. Che magno. Eh, vabbè, raga, quanti milioni di danni devo far? Con lo spitti ce l'avresti fatto già. C'ho uno qui alla mia destra. Ok. Prendiamo la macchina, io che se lo... Non so se lo... Oh, cazzo. Arriviamo, arriviamo. Sì, non preoccuparti. G, fucking G, bro. Ok. C'è un po' di potere verso... Fantasma, questo è fantasmato, zio Bricco. Forza davanti a destra. Provano a prendere un knock e ci buttiamo. Pronto? No, 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 no. Buttiamoci giù. Ti seguo. Oddio, ultimo, 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 merda. Merda, 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 ultimo, da me. Colpo uno? Eh, no, no, no. Ho buttato la smettina, non è battato. Ho buttato un po'. Raga. No, raga, ma io li ho sparato in testa e ho perso un... Non è un glitch, non è male, però. Ci va se colpi dentro. Ma io magari... Eh, prima o poi dovrà avvicinarsi lui, no? Allora... 7.54. Volete rispettarvi il cheater? No, ha disinstallato il gioco io. Vero, non lo sai. Facciamo un esperimento sociale. Ok. Quando non si fanno vedere, comunque... Proprio sono quelle lobby... I tre giardini, proprio. Ci muore in modo strano, capito? . . a presto a Ecco Il team che gioca safe safe è qui a destra Qui c'è chi non è occhio Assi in arrivo Alla nuova zona sicura Si è arrestato sopra Dove scendere Nooo Era dall'altra parte Non bestemmiare Ci siamo Ma sei solo dietro il blocco Che cosa succede Che cosa succede Questo è il Questo è il Di avvicinamento Nel Oh c'è questa coroncina Però non so Contratto ricercato identificato Ignorare E non la scrive Non la mettono Ma dai Dimmi che è una roba normale Luca Aspetta 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 Butta la granata Allora Aspetta 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 Un cheater Mi sa che mi ha chiamato un cheater Non so sicuro Però Aspetta